Buonasera mister Marco Venditti, signora Mia Calcio News, senza entrare nei particolari dei due gol che magari sono stati un attimo di distrazione, ecco si potevano evitare, però c'è da dire una cosa che questa Juventus un plauso va fatto per come a livello caratteriale sta reagendo con tutto quello che è successo, sta dando veramente prova di grande maturità, specialmente i ragazzi e anche i giovani che si sono molto responsabilizzati. Quindi io personalmente faccio i complimenti a questa squadra perché ogni volta è sempre una novità vederla nella reazione che ha. Grazie. Stasera era una partita non semplice, poi sembrava si era semplificata sul 2-0 ma le partite finiscono al 95esimo, anche a volte dopo 100 minuti. In quel momento lì ci siamo allungati, siamo continuati ad andare a giro per il campo, bastava far passare 7-8 minuti senza prendere delle ripartenze, non siamo stati capaci a fermare la prima ripartenza. Di conseguenza siamo andati dietro al primo gol subito, però questo credo che faccia parte anche un po' dell'inesperienza, perché quando i giovani ti danno grande entusiasmo, tecnica, perché Fagioli e Meretti hanno fatto una partita importante, Enzo ha fatto una buona partita, però quando nel centrocampo c'erano i tre che viaggiano tra il 2001 e il 2003 e non riesce a capire un momento della partita, lì bastava stare fermi, fa passare 7-8 minuti e la partita scivolava via per cercare il 3-0. Però abbiamo subito questo e siamo stati messi alla prova, il secondo tempo la scuola ha fatto un altro buon secondo tempo con un piglio diverso, soprattutto eravamo più corti, abbiamo aggredito meglio e dire una vittoria importante che ci permette di lavorare bene per questi tre giorni in vista di Filburgo. Buonasera a Romeaggressi.com, le chiedo mister le condizioni di Bonucci e Bremer, grazie. Bonucci, Leo, ha preso un colpo e domattina verranno fatti gli accertamenti, per quanto riguarda Bremer aveva un fastidio sul tendine e niente di che. Buonasera mister, Francesco Pellino, agenziale. Le volevo chiedere di Rabiot, sempre più leader di questo centrocampo e sta raggiungendo anche l'obiettivo dei 10 gol in stagione. Adria è molto bravo, è diventato bravo con la maturazione che ha avuto, è nell'età giusta, può giocare nei due di metà campo, nei tre, è bravo nella costruzione, si muove, ha un motore diverso dagli altri. Ora poi è diventato anche bravo a chiudere l'azione, quindi credo che possa ulteriormente migliorare. Buonasera mister, Luca Cavallero, Tiamvoredio. Le volevo chiedere un giudizio sull'impatto che ha avuto sul match a Sule e più in generale in quale ruolo può essere maggiormente incisivo. Grazie. Anzitutto sono contento per Mattia che ha fatto gol, poi ha fatto una bella giocata prima, quindi sono contento, ha avuto un impatto importante perché tecnicamente ha pulito il gioco. Un giocatore tecnico, un giocatore che è in partita, poi un giocatore che si trasforma e di questo sono molto contento. Salve mister, è Giorgio Musso di Calciamercato.it. Le chiedo se Pogba e Chiesa potranno ritornare disponibili in Coppa. Grazie. Pogba? No, sicuro. Chiesa, vediamo. Ciao Antonio Paolino, Radio Biancorriera. Ti chiedo che cosa hai detto e come eri incurato e sei stato anche contento di come il pubblico ha coccolato Vlaovic. Vlaovic deve stare sereno, stasera anche tecnicamente ha fatto le buone cose, ha fatto una buona partita, poi le è mancato il gol. Deve trovare quell'equilibrio che gli dico sempre di stare più sereno che il gol lo trova e essere meno frettoloso quando le arriva la palla nei piedi. Cosa che ha fatto soprattutto negli ultimi 20 minuti. Però sono molto contento e il gol lo troverà presto. Buonasera Marco Boi, Tutto Sport. Le volevo chiedere per la partita col Friburgo se servirà un po' più di esperienza ma anche un po' più di qualità. Di Maria cosa ha fatto in questi due giorni e a che punto è per giovedì? Di Maria in questi due giorni ha fatto niente. Credo da martedì ritornerà a essere con la squadra e giovedì essere a disposizione. Buonasera Ministro Filippo Bonsignore, Corrierello Sport. Le chiedo che significato ha pensare a questa classifica che pur virtuale sul campo come lei sottolinea spesso, anche prima sono 53 poi i punti. È una classifica che ci ha soddisfazione. Noi comunque l'obiettivo è quello di rimanere nelle prime quattro. È possibile in questo momento cercare di puntare al secondo posto. Quello che bisogna fare sul campo è perché comunque degli obiettivi bisogna darseli. Un po' di settimane fa eravamo in lotta per la salvezza perché quando ci hanno sottolineato i 15 punti erano in questo momento qui. Visto che siamo settimi in classifica, se non sbaglio, bisogna classifica attuale. Nello stesso tempo noi bisogna lavorare per cercare di raggiungere i massimi obiettivi guardando quello che abbiamo fatto sul campo. Ecco, e sul campo la scuola ha fatto 53 punti. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte.